Dottore Gambino, questa mattina la consegna degli attestati per il progetto Pretendiamo la legalità e sono stati dati dai bambini, diciamo, alla scuola Alcmeone. Allora, rientra quella di oggi in una manifestazione che già abbiamo avviato nello scorso anno scolastico e abbiamo consegnato questa mattina al dirigente scolastico dell'Alcmeone una serie di attestati per i bambini che hanno partecipato a un concorso nazionale in cui le scuole crotonesi, alcune non tutte, hanno preso parte e hanno raggiunto questo obiettivo di avere questo attestato. Ovviamente abbiamo ribadito che siamo a disposizione per riprendere, dopo il periodo della pandemia, gli incontri che noi abbiamo sempre avuto con gli istituti scolastici. Educare i bambini, dobbiamo dire, alla legalità è importante, è fondamentale. Questa formazione serve a loro ma serve anche a noi adulti? È una formazione indispensabile ma è soprattutto un supporto indispensabile perché accanto all'attività ecoteorica poi c'è anche, voglio dire, in qualche modo una presentazione di un'attività pratica che è condotta sul campo da chi opera costantemente per il rispetto della legalità e diventa per loro ancora più stimolante e incentivante la fase di studio. La Polizia di Stato è sempre presente nelle scuole? Assolutamente sì, a noi fa molto piacere. La promessa che gli abbiamo fatto qualche mese fa era appunto di portarli all'interno della Questura. Abbiamo preso contatti oggi col Preside per organizzare una visita all'interno appunto dei nostri uffici di modo che loro appunto possano assistere di persona a quelle che sono le emergenze, la gestione delle emergenze, come si lavora all'interno di una sala operativa. C'è stato uno scambio di gadget, chiamiamolo così. Gli abbiamo omaggiati con dei cappellini che il cerimoniale del nostro dipartimento ci ha dato e loro invece hanno ricambiato il favore con dei gadget che vedete alle mie spalle, delle bandierine e anche una scatola che rappresenta il mio diario e quindi oggi è stata l'occasione giusta per tornare ad avere contatto con i bambini e omaggiarli appunto di questi attestati.